Sono molto denuso dal numero di cartellini gialli estratti da questo arbitro, anche perché ne ha dato uno di troppo a Steven Gerrard. Mi piace pensare che eravamo talmente in controllo del match che se non lo avesse espulso subito dopo il nostro pareggio avremmo potuto anche vincere. Fummo fortunati agli europei contro l'Ucraina, ma stasera abbiamo giocato veramente bene. Non possiamo negare che gli ucraini meritavano il punto stasera, però mi è piaciuto il nostro calcio dopo un inizio non proprio sfavillante. E poi ho impiegato cinque ragazzi qui a Wembley contro una delle favorite del girone e loro ne sono usciti molto bene.